I can't say this I can't say Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in realtà è un video molto breve di aggiornamento riguardo l'aumento delle potenze da parte dei nostri operatori mobili sulle BTS infatti dal giorno 29 la legge permetteva e permette ai nostri operatori di aumentare bene, non hanno perso tempo infatti fioccano le comunicazioni agli organi competenti sito per sito, quindi riguardante sito per sito di aumento delle potenze o inizio di lavori per adeguamento delle stesse BTS dove non sono ancora pronte per l'aumento appunto di queste potenze dell'adeguamento dai 6 volt metro ai 15 volt metro vi ricordo che ho dedicato un video recentissimo a questo argomento dove spiego tutto nel modo più semplice possibile a meno che mi è possibile per potervi dare un quadro completo della situazione quindi andatelo a vedere lo troverete anche ribillocato nelle schede prima dell'inizio della sigla finale di questo video quindi stanno cominciando non hanno perso tempo ovviamente i benefici saranno quelli previsti in certe zone saranno benefici più evidenti in altre saranno veramente minimi ma lo aspettavano veramente da tantissimo tempo grazie alle loro lamentere abbiamo avuto questa legge che inizia quel processo di aumento delle potenze per adeguarci in futuro ai 61 volt metro di ogni paese occidentale quindi che dire iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti per supportare il mio lavoro come vedrete sono sempre presente sul pezzo fatemi sapere come la pensate iscrivetevi al canale mettete pollicioni in su vi terrò aggiornati anche su instagram per eventuali altre informazioni al prossimo video un abbraccio e un saluto da Giuseppe a chi ande iscrivetevi al canale 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 Grazie a tutti.